papà l'orizzonte si può addrizzare? sì figlia adesso si può addrizzare salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video finalmente fimi ha introdotto per il suo x8 una funzione utilissima e che va a risolvere un problema abbastanza grave che aveva il fimi x8 cioè l'orizzonte è storto questa funzione che è stata introdotta nell'applicazione navi è una funzione comodissima va a regolare il gimbal sui tre assi quindi siamo noi in manuale andare a regolare il gimbal e metterlo come ci pare piace nel senso ovviamente dritto e andiamo a salvare l'opzione a quel punto da quel momento in poi avremo il gimbal sempre con le impostazioni che abbiamo salvato in quel momento quindi ragazzi adesso vi faccio vedere come ho fatto io a dargli al gimbal un orizzonte dritto ok ragazzi la prima cosa da fare è creare un piano perfetto dove appoggiare il nostro film x8 per poi andare adrizzare l'orizzonte allora andiamo a prendere un tavolo e con una livella tipo questa andiamo a controllare che il tavolo sia in piano ok il tavolo in piano avete visto che l'ho misurato sia da una parte che dall'altra quindi il tavolo adesso è perfettamente in piano quindi il nostro fimi sarà in piano e quindi l'orizzonte se è storto lo andremo a drizzare su un piano dritto perché sennò se lo drizziamo a occhio non la vedo una grande generata quindi ragazzi allora il piano adesso ce l'abbiamo ed è perfetto andiamo ad accendere il nostro fimi x8 ok quindi adesso possiamo entrare nell'applicazione del nostro drone allora ragazzi adesso il drone è acceso l'applicazione accesa andiamo nelle impostazioni del del gimball quindi entriamo nelle impostazioni del gimball advanced setting e aggiuste quindi adesso in all'interno di questa applicazione o meglio all'interno delle opzioni del gimball abbiamo la possibilità di regolare il il gimball su tre assi però per verificare quanto è storto o dritto il l'orizzonte di di quanto dobbiamo correggere ovviamente dobbiamo avere un piano perfettamente piano e un qualcosa che ci indichi la linea dell'orizzonte quindi nel mio caso cosa vado a fare ragazzi do prendere la livella la vado a mettere davanti alla camera del film x8 di modo che da avere una linea che indichi rispetto alle linee create all'interno dell'applicazione una linea d'orizzonte e vedere di quanto la dobbiamo correggere vedete che il il drone ci indica una linea ok la vedete nell'applicazione quindi da questa parte il drone più basso rispetto a qua quindi dobbiamo andare a correggere e ad alzare un po questo lato per adrezzare l'orizzonte quindi l'asse r e l'asse che ci interessa in questo caso per fare questa modifica quindi andiamo a correggerlo vedete che si addrizza e adesso abbiamo creato un orizzonte che adesso è storto dall'altra parte lo vado un po ad abbassare ok con un 0,8 con un meno 0,8 abbiamo un orizzonte che è diciamo quasi perfetto rispetto a prima che invece si vedeva che comunque è inclinato rispetto alla linea creata da questa livella rispetto alla fotocamera avevamo comunque una linea inclinata adesso l'abbiamo fatto abbiamo adesso l'abbiamo corretta con meno 0,8 la linea avete visto che è praticamente perfetta andiamo a fare save ok a questo punto lui rifà la calibrazione del gimbal una volta che l'abbiamo salvato lui rifà la calibrazione con le impostazioni di salvataggio che gli abbiamo dato adesso andiamo a vedere se le impostazioni saranno corrette e se ha mantenuto la linea che gli abbiamo dato mantenendo sempre la livella davanti a noi aspettiamo che finisce di fare la sua operazione ok l'operazione è finita adesso possiamo andare a controllare facciamo ancora giuste aspettiamo che si riavvia la videocamera ok vedete che adesso la linea dell'orizzonte è perfettamente dritta quindi ragazzi avete visto che in cinque minuti neanche abbiamo adrezzato la linea dell'orizzonte di questo film x8 che era una delle sue diciamo cose più negative che aveva e altre da sistemare ma questa è secondo me era una delle sue cose peggiori insieme al colori che tendono un po al blu dopo c'è altre cose sistemare l'overing che non è un granché però non crea questi grandissimi problemi voglio dire ci permette comunque di fare cose buone quando lo sistemeranno andrà bene anche quello e anche il rettuntuomo che non torna preciso sul landing però torna dove siamo quindi voglio dire sono cose da sistemare ma l'orizzonte storto è una cosa che veramente dava tanto fastidio e questa cosa di andare a correggerlo è una cosa che è veramente tanta roba da avere nella nostra applicazione quindi ragazzi vi ho spiegato il metodo che ho usato io per andare a drizzare l'orizzonte è meglio per andare a drizzarlo in maniera dritta perché se lo drizziamo a spanne o come ci sembra noi così secondo me la soluzione migliore è questa un piano livellato quindi prendiamo un tavolo e lo andiamo a livellare di essere sicuri che il piano sia in piano utilizziamo una livella di modo che abbiamo sia la possibilità di livellare il piano che di avere una linea che vada a fare da verifica alla linea creata nell'applicazione per poi avere un confronto di quanto dobbiamo andare a correggere l'orizzonte quindi ragazzi in questo video in cui vi ho fatto vedere come drizzare l'orizzonte di film x8 vi è piaciuto la ricetta un grosso pollice su iscrivetevi al canale telegram offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo un test ciao